Dislessia, disgrafia e discalculia sono i disturbi specifici dell'apprendimento che coinvolgono fino a un quinto della popolazione scolastica. La diagnosi richiede una valutazione multidisciplinare effettuata da un'equip sanitaria. Fin dalla scuola elementare i docenti sono chiamati a riconoscere in tempo i disturbi delle abilità degli alunni. Oggi la direzione scolastica regionale ha identificato di concerto con l'Istituto Neuromed di Pozzilli, cinque scuole pilota artefici di un progetto che intende valutare in tempo il fenomeno DSA. Sono problematiche che riguardano appunto specificità di problemi apprenditivi che rischiano di influenzare in maniera forte e determinante il successo scolastico dei ragazzi. Non sono problematiche che riguardano solo i ragazzi della scuola primaria purtroppo. La scuola primaria diventa invece importante come fascia nella prospettiva della individuazione e quindi dell'intervento precoce perché individuare e avere quindi la possibilità di intervenire precocemente è la speranza e anche la possibilità vera di risolvere il problema e quindi di evitarne le conseguenze negative. Questo nuovo progetto in collaborazione con la Neuromed è un progetto pilota che riguarderà tutta la regione attraverso alcune scuole campione della zona di Campobasso e di Isernia che prevede la somministrazione di test che rileveranno la eventuale presenza di disturbi specifici dell'apprendimento sui ragazzi e quindi poi permetteranno alle famiglie che lo vorranno di predisporre e destinare ai propri figli dei percorsi specifici. Cosa possono fare in questo momento le scuole e soprattutto i docenti? I docenti formarsi, formarsi in questa direzione e questo non perché ci sia una inadeguatezza colpevole da parte dei nostri docenti ma perché il tema delle difficoltà specifiche di apprendimento è un tema che purtroppo è emerso solo negli ultimi anni quindi solo ora si sta creando una sensibilità e un interesse collettivo rispetto al problema quindi è fondamentale formarsi per poi essere in grado in classe di cogliere i primi segnali significativi e soprattutto non confonderli con segnali che fanno capo ad altri tipi di difficoltà o disturbi. Gli istituti scolastici destinatari del progetto per l'anno in corso sono a Campobasso, la Colozza, la Montini e la Petrone, a Isernia, la San Giovanni Bosco e l'istituto comprensivo Giovanni XXIII, un riconoscimento tardivo dei disturbi specifici dell'apprendimento, aumenta il rischio di insuccesso scolastico dei ragazzi e di complicazione con altri disturbi psicopatologici.